Salve cari amici tutubi, sono Francesco e bentornati nella soffita di camera mio, benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Qui fa Francesco, alla mia spalla c'è Zeppi Perone, quest'oggi parliamo di Caputmundi, i mostri di Roma, il lago che combatte. Storia coscritta da Roberto Recchioni, a cura di Giulio Gualtieri, i disegni sono di Stefano Manieri, Francesco Prenzi e Chiappara. Tanti stili di disegno diversi, non so se riuscirò a farveli vedere tutti aprendo le pagine a caso, che però riescono a unirsi e fondersi in maniera abbastanza omogenea, pur con il proprio stile, visto che alcune sequenze sono fatte in un modo, altre sono fatte in un altro ancora. Quindi, tutto sommato, ho apprezzato anche questo continuo cambio di autore. In un albo che costa 5 euro, Universo Cosmo, che cosa c'è da dire di questa storia qui? Finalmente ingrana l'Universo Cosmo, con questo quarto capitolo dedicato a questi mostri che popolano la città di Roma. Ma i nostri protagonisti, il lupo nero, Wolf, il nostro lupo Mannaro, la nostra donna bellissima, Eva, e il nostro uomo invisibile, devono andare dal mostro della laguna, il mostro del lago di Roma, fondamentalmente. Perché gli vogliono chiedere aiuto per poter affrontare il loro nemico, la mummia che sta imperversando per le strade di Roma e che li ha messi effettivamente in... Sono un pochettino nei guai, perché la mummia li vuole fare in qualche modo fuori. La storia procede veramente bene, un ritmo molto serrato, molto adrenalinico, non c'è mai un momento morto. Ci viene introdotto un nuovo personaggio? Sì, quello di questo uomo che vive nel lago e continua a giudicare le altre persone, innocenti o colpevoli, sulla base di quello che è il suo metro di giudizio. I colpevoli devono morire, fondamentalmente, mentre gli innocenti devono essere salvati. Una giustizia totalmente sommaria, totalmente personale, che però reputa essere giusta e coerente con la natura e la salvaguardia della natura stessa. A questo personaggio, come dicevo, si affia anche la ricerca dei nostri protagonisti, di avvicinarsi a lui per poterlo, per potergli chiedere aiuto, mentre, d'altro lato, Bimbo, il lupo mannaro che stava con Nero e che adesso invece sta dalla parte di Piero Battaglia e della mummia, vanno dal mostro della laguna, fondamentalmente, per rubargli un tesoro, un hard disk che si trova da qualche parte nel tesoro del mostro del lago, fondamentalmente. E Bimbo deve saper dimostrare di essere un leader capace, un leader promettente per poter scalare i ranghi e poter dimostrare di essere qualcuno che vale realmente agli occhi della mummia. Ma effettivamente ci riuscirà. La storia, come dicevo, risulta essere piuttosto adrenalinica, piena di bei momenti. Dopo tre capitoli di pura introduzione alla vicenda e che stavano un pochettino anche arrivandomi alla stufa, devo dire che questo capitolo risolleva un pochettino la serie, dandogli un motivo di interesse, e un interesse che entra nel vivo man mano che si prosegue. Mancano ancora due capitoli alla conclusione della storia e, sinceramente, li sto aspettando per vedere in che direzione vogliono andare con questo universo. Anche se permango ancora dell'idea, nonostante tutto, che di questi personaggi introdotti in realtà non mi interessi realmente nessuno, non mi interessa una serie regolare su nessuno di questi personaggi introdotti finora. Mentre, invece, eventuali crossoveroni come questo potrebbero essere comunque interessanti se riproposti in un futuro prossimo. Questo è quanto avevo da dire per oggi. Voi state leggendo questa serie della Cosmo Editoriale, oppure no, vi può interessare, non vi interessa? Che cosa ne pensate se la state seguendo? Scrivetemelo qui sotto nei commenti e noi ci vediamo ad una prossima video di opinione del canale. Ciao!